Ciao Rattilover, stai cercando un crossover grintoso ma accogliente? Nissan Qashqai, seconda serie, 1.6 di cilindrata, 130 cavalli, allestimento business. Parliamo di un'auto aziendale, quindi certificata e garantita perché ha superato il test dei 100 punti di controllo effettuato dai nostri automotive expert. Alimentazione diesel per un consumo reale e medio di soli 4.9 litri ogni 100 chilometri. Bellissimo questo color nero metallizzato con inserti cromati che ne accentuano il carattere sportivo ma elegante. Truppo ottico anteriore che si allunga sulla fiancata e viene ripreso dai led sugli specchietti retrovisori esterni. Dettagli cromati anche a bordare la finestratura, massiccio e imponente il frontale. I cerchi sono da 17 pollici e vediamo insieme le condizioni del battistrada che sono davvero perfette. Il bagagliaio con luce di cortesia ha una capienza che parte da 430 litri. Abbattiamo i sedili posteriori con questa pratica leva e arriviamo a 1598 litri di capienza. Bellissimi e super curati gli interni delle portiere con inserti cromati e nero lucido. L'abitacolo è molto spazioso e accogliente ma soprattutto luminoso grazie agli interni chiari. Le sedute sono morbidissime in tessuto bicolor con attacchi isofix a entrambe le sedute esterne posteriori. Il sedile del passeggero centrale inoltre può diventare un pratico bracciolo con doppio portabibite. Poco più di 50.000 km percorsi e la plancia è super di design e molto tecnologica con inserti nero lucido. Partiamo dal volante in pelle maneggevole con cuciture a vista, inserti cromati e dotato di numerosissimi tasti, tra cui la gestione delle telefonate e il cruise control. E sotto alle bocchette della reazione troviamo il nostro display dal quale è possibile gestire tutto l'infotainment. Dalla radio possiamo accedere alle mappe e alla navigazione, a tutte le impostazioni di setup della vettura e possiamo anche connettere il nostro smartphone grazie a bluetooth. Inferiormente troviamo il clima automatico B-Zona, un pratico vano portaoggetti con presa da 12V freno di stazionamento elettrico, il cambio è automatico, doppio portabibite, ulteriore vano portaoggetti e un altro vano portaoggetti sotto il bracciolo centrale. A disposizione ha anche i sensori di parcheggio perimetrali, se siamo attenti ai consumi possiamo anche impostare la modalità di guida che più ci aggrada. Un crossover spazioso e super accogliente che puoi trovare sul nostro sito rattiauto.com Potrai riservarlo senza impegno per 7 giorni con soli 100 euro e riceverlo direttamente a casa tua in tutta Italia entro 7 giorni lavorativi con il nostro servizio di consegna a domicilio con igienizzazione. Non dimenticare di seguirci su tutti i social e di cliccare sulla campanellina del nostro canale YouTube. Alla prossima auto! Alla prossima!